Mondottica nasce nel 1996 con l'obiettivo di soddisfare la propria clientela con prodotti di ultima generazione. Occhiali da sole, da vista e lenti a contatto. Il nostro costante impegno nella ricerca di prodotti innovativi si pone l'obiettivo di offrire una visione chiara e confortevole. Ma soprattutto di migliorare, proteggere e preservare la vista dei clienti. Mondottica Scopri come vedere il mondo Salve a tutti, sono Rosy Luca, osteopata e titolare del centro medico Fisiosalus. Oggi voglio raccontarvi del mio sogno che è diventato realtà. Fisiosalus nasce nel 2015 da una superficie di 60 metri quadri e contava 3 fisioterapisti. Oggi la nostra equip è formata dai migliori medici, osteopati, fisioterapisti, chinesiologi che ci sono nel settore sanitario e conta 60 professionisti su una superficie di circa 800 metri quadri. Abbiamo creato tutto questo per migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti e sviluppato soprattutto dei percorsi terapeutici che puntano alla prevenzione della salute. Tutto ciò è stato possibile attraverso il continuo aggiornamento, impegno, studio di ogni membro del nostro staff, andando sempre alla ricerca del meglio per i nostri pazienti. Non c'è nulla che più caro che la nostra salute e Fisiosalus è qua per questo. C'è molto di più del blasone e della rivalità come motivi di interesse in questo Bastia Foligno. Si inizi dal Bastia, capolista che sembra saper recitare molto bene il ruolo, come dimostra la marcia dei ragazzi di Montecucco fino ad adesso. Il Foligno dal canto suo vuole dimostrare di essersi lasciato alle spalle quelle magagne di inizio stagione. In questo senso molto probanti il testo odierno. E ci vuole ben poco ai ragazzi di Bobby a capire l'ospitalità dei ragazzi di Montecucco. Sono passati 11 minuti dal fischio d'inizio dell'arbitro Giovagnoli di Perugia che Rosignoli, beccato da Pelliccia, trova sulla sua strada un cercarelli in formato super. Vera novità dell'undici di Montecucco-Pelliccia, che si schiera a destra nel tidente d'attacco con Donati e del Prete. In mezzo giostrano Rosignoli, De Santis e Ubaldi, mentre dietro l'arretrato Cozzali sostituisce a destra lo squalificato Muzzani, con Moiano, Gambacorte e Sant'Antonio a completare il pacchetto arretrato. In porta gioca Chicri. Non si lascia intimorire più di tanto il Foligno, tutt'altro. Massa, Bacchi e De Gioia si dimostrano subito un ottimo trio di mezze punte ad assistere il centravanti Nicolò Perri. La punizione di Bacchi, al ventesimo, è il biglietto da visita dei Falchetti, che un minuto più tardi si distendono sulla destra col terzino destro Gorgoni, suggerimento su cui Massa arriva un filo in ritardo. La conclusione centrale di De Gioia al ventiduesimo ed il colpo di testa di Nicolò Perri un minuto più tardi confermano il buono state di salute del Foligno, che completa l'undici con Ceccarelli tre pali, Gorgoni, Donnola, Masci e Pucci in difesa, e Fuso e Matteo Perri, tesserato quest'ultimo in settimana in mezzo al campo. Sulla stessa fascia l'accelerazione di Del Prete, spostato a destra pochi minuti prima. Al quarantaduesimo anch'essa carica il destro di Donati. Esito è il medesimo. Inizia la ripresa con Ubaldi, non al meglio già nel primo tempo, che lascia lo spazio a Cirilli. Piuttosto bloccato l'avvio del secondo tempo ed il Grimaldello, in questi casi, è nei piedi di De Gioia. Destro a giro sul secondo palo e palla in rete per il vantaggio dei Falchetti. È il dodicesimo. Sostituzione già programmata prima, Bobby ora ha una ragione in più per inserire la fisicità di Vieng per Fuso e passare al 4-3-3 con l'arretramento di Bacchi. Montecucco risponde con Alessio Santucci, che entra per Perliccia ad assistere là davanti Donati, con Del Prete e Rosignoli che rimangono larghi. In un bastien difficoltà in fase di finalizzazione, non aiuta l'uscita di un manconcio Donati al ventiduesimo, al suo posto Reca. E nemmeno il tecnico Montecucco forse potrebbe immaginare che il pareggio, isperato per quel che si stava vedendo in campo, potesse venire da Cirilli, abile ad inserirsi su palla inattiva e sigallare in diagonale l'1-1. È il 34esimo. Protestano i giocatori del Foligno per un presunto offside. Gorgoni forse esagera con le parole e l'arbitro Giovagnoli estrae il rosso. E così, un Foligno che sembrava in controllo della partita, si ritrova in parità di gol e sotto negli uomini. E la beffa per i Falchetti pare concretizzarsi al 38esimo. Ceccarelli non è perfetto sul tiro di Santucci, ma diventa letteralmente miracoloso sulla ribattuta ancora di Cirilli. Aumenta il nervosismo e quello che accade al 45esimo sicuramente non aiuta a stemperarlo. Rosignoli sfonda sulla destra, Ceccarelli è miracoloso in due occasioni, ma nulla può sul tapin del neoentrato Buratti che sigla il 2-1. Il tutto accade però con Pucci a terra. Per i Folignati l'azione è nata dal fallo subito proprio dal terzino sinistro ospite. E le proteste costano i Falchetti il secondo rosso. Stavolta a terminare prima la partita è Masci. Foligno in nove. Si riprende a giocare e sul capovolgimento di fronte Giovagnoli reputa regolare questo intervento di Alessio Santucci su Bacchi. Decisione che non fa che aumentare le discussioni nel dopogara. La prestazione convincente del Foligno è certificata dagli applausi ricevuti dal numeroso pubblico azzurro a fine gara. Ma se il Bastia riesce a vincere pure queste partite potrebbe diventare molto duro a riprenderlo. Lo so dell'aspetto campo. Sono orgoglioso della mia squadra. Di ogni ragazzo ci siamo guardati negli occhi all'inizio della partita. Ci guardiamo in faccia a fine della partita consapevoli che siamo andati in campo con le nostre idee con i nostri principi. In qualsiasi momento della partita abbiamo fatto una grande gara. Quindi a prescindere dal risultato che dà fastidio per come è venuto non per la sconfitta in sé per sé sono orgoglioso di ognuno di loro. Io credo che abbiamo fatto benissimi i primi 20 minuti potevamo aver fatto 4-5 palle gol pulite poi sul momento dovevamo la squadra che vince il campionato li doveva in qualche modo schiacciare gli avversari gli abbiamo concesso campo su delle situazioni da fermo tipo rimesse laterali loro sono venuti fuori e lì hanno avuto delle occasioni loro poi sono stati bravi ad andare in vantaggio però la mentalità nostra è totalmente sbagliata quindi se vogliamo vincere il campionato non è una buona indicazione la partita di oggi onestamente quindi bene chi è entrato quindi per vincere il campionato ci vuole la pancia vuota e noi ce l'avevamo troppo piena a mio avviso e questo è un errore imperdonabile.